Ciao a tutti ragazzi sono Carmine e benvenuti a questo nuovissimo video di Minecraft Parkour Spiral Ovviamente in compagnia di Tommy che ha dovuto iniziare a sfogarsi ovviamente Tommy se con me dico una cosa Iniziamo subito non perdiamo tempo Vai 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 subito subito partiamo subito a 20 secondi partiamo perfetto Però Carmine fagilo bene Sì sì piano hai ragione hai ragione vai Facciamolo subito però cerchiamo di Eh vabbè ma com'è una parola oggi su Ma guarda tu dove sei Ciao Eh ciao Ce l'ho fatta Bravo Ti assento Io non capisco Ti vedo Sono bravo Oh buongiorno Adesso devi fare un saltone all'arancio Oh mio dio ma è facile Sì 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 Oh c'è un buco qui C'è un buco Dove è buco? Ah in questa cascatina Sì ciao Oh buongiorno Buongiorno Sì Sì Vi vogliamo benissimo a tutti quelli che ci seguono Leva Come no Vai 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 mi levo Però muoviti su che abbiamo trovato dove andare Oh c'è un buco c'è un buco c'è un buco c'è un buco su Buongiorno Oggi ho anche una challenge video senza tagli Cosa? Grazie ma che cosa? Ma Perché guarda tu? Ah perché Ah sì Sì te la tengo aperta Vai te la tengo aperta Vai 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 tu vai te la tengo aperta Oh no Dai però Che cavolo Oh già l'avevo fatto Spolliciate Ok Sionca le mani Spolliciate Scriveteci qualche commento se volete qualcosa Slime Non ce l'ho Fence Ma come fai? No no fence Sì Fence credo E ma Cosa è ubriaco No no vabbè Ci sono alcuni E poi qua lo slime Vedi? E poi qui salti qui Poi qua fai un giro qui Qua salti qui Vabbè è facile No a casa No Sfigato Sfigato a chi? A te L'ho capito a me Ma Ok Ci mettiamo Non è stato fatto apposto Allora Non è stato fatto apposto Lo giuro non l'ho fatto apposto Vabbè ovviamente mica lo Ok come dice lei Mica lo faceva apposto ovviamente Ehi come dice lei Ok come dice lei Bravo bella rima Ogni volta invento una rima Beh di solito non le inventi Però bravo Ti do i miei complimenti Oh buongiorno Sei E lo so C'è una testa in mula Perché tu Ah ma tu già sei dall'altra Tommy cionca le mani Tommy cioncati le mani Perfetto Ciao Buongiorno Ok comunque già un po' capito Nell'acqua Sì nell'acqua Va bene Nell'acqua Bravo Tommy Sei bravo a capire Perché l'ho studiata Mentre tu stavi facendo Quel parkour Hai detto facile Hai detto quel parkour facile E fa finta di niente ovviamente Le verrughe Tommy ha visto che rima E fa finta di niente ovviamente Ragazzi oggi siamo in piena di rime Oggi siamo in piena di rime In piena di rime Siamo comici Siamo i Carmine e Tommy Comici Siamo i Carmine e Tommy comics Sono caduto dalla fence perché Ho girato la testa Però sono largato Yuhuuu 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 Vai facciamo presto Facciamo presto Qui presto Non l'ho fatta Bravo Tutto il parkour Ah proprio tutto il parkour Sì allora vai Ah io so che so saltare Anch'io so che so saltare Ah no pensavo che non saltare Prendi la sola Buongiorno andiamo Allora questo è un mondo caravacita Mangio Carmine mangio Nooo Me ne mangio un po' Mangio un po' Eh tu mangi sempre Perché mi hai picchiato prima? No perché stavo mangiando Miau Perché ho fatto il vesto del gatto? Tu non mi hai visto gli alberi dove sono E noi siamo solo a 6 minuti di registrazione Wow Wow Mi aspettavo di peggio eh Sì mi aspettavo un'ora Eh un'ora eh E mica il video dure un'ora Che siamo in live Sì sì Pensatevi portavamo una live Di far questo sfigale Sì ma no ma no mai Vi ho portato un Tommaso che cade Vi accontentate? Vai Un Tommaso che cade Vi accontentate? Stavo 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 ce l'ho fatta io Ma che coscia dici? Wuhu Slime Aspettiamo Tommy Ma sei caduto di nuovo Va su Allora Nel frattempo Io Studio Io studio un attimo la mappa Per vedere Come dovrei Ah ma è abbastanza facile Tommi Sono già in cima Come? Ti aspetto su Vai Tommi per vederti Sì Vai premendo E' facile E' facile Oggi sono sopra Vai Come ho fatto? Come ho fatto? Uh Vai vieni Uh Bravissimo Inizia a farlo Vai vado E ce l'ho fatta Buongiorno Aiuto Ti aspetto Faccio un bel taglio lungo Perché tu ci rompi le scatole oggi Perfetto Tommy Visto che sei qui Ti ho detto che era facile il livello Andiamo subito su Buongiorno Cos'è? Tommi ma sei Ma dov'è la figlia? Ah no Pensavo che dovevamo andare alla fine Dove? Ma siamo vicinissimi Quello è l'impressione Tommi E' l'ultimo livello Sì Vai Tommi andiamo E' l'ultimo livello E' l'ultimo E' l'ultimo Ah perfetto Vai inizio Inizio Non ti aspetto Grazie Vieni Premi la pressure plate Oh mamma mia Tommi non riesco Ma che ci vuoi? Ma che ci vuole? Non riesco a fare il primo salto Ragazzi Dai che ci siamo quasi Tommi non ci possiamo far fermare Dall'ultimo Dai Vieni No Allora ragazzi Vai Il video finisce qui All'ultimo livello Vai Non sei Vai Vai Via Vai Vergogna Ragazzi In diretta All'ultimo salto Sì Attenzione qua L'acqua è bu L'acqua non è velenosa L'acqua non è velenosa Vai L'acqua non è velenosa Vai L'acqua non è velenosa Quindi ragazzi Speriamo che il video vi sia piaciuto Questa è stata la quarta parte La ultima parte di Parkour Spiral Spolliciate Spolliciate Scrivete un commento se vi è piaciuto il video E noi Noi chiudiamo qui Abbiamo finito Speriamo che il Parkour Spiral vi sia piaciuto E noi ci vediamo con il video di domani Che forse Sarà lo speciale Ciao ciao Un saluto da Tommy anche Ciao Ragazzi aspetta Questo È il Pugno della vittoria Sì Noi ci vediamo domani Ciao 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 Ciao